Tra un mese esatto riprenderanno le lezioni a scuola ed i medici di Medicina Generale della Federazione Pugliese della FIMG definisce fondamentale la presenza del medico in classe e si dice disponibile a far ripartire in sicurezza le lezioni e il servizio. La riapertura delle scuole in sicurezza nel nostro paese è un momento determinante per il nostro sistema paese e la medicina generale come parte fondamentale del sistema sanitario nazionale è chiamata a fare la propria parte in un momento così difficile momento che può trasformarsi in una grande opportunità per la nostra professione grazie alla disponibilità, al confronto e alla collaborazione che tale circostanza ha determinato a livello ministeriale. E' quanto sottolineato da Donato Monopoli segretario generale regionale pugliese della FIMG, la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Come è noto ormai, infatti, i medici di famiglia avranno un ruolo decisivo per la riapertura delle scuole in tutta sicurezza ruolo a cui i medici non vogliono assolutamente sottrarsi anche se chiedono che la Regione Puglia e la EASL debbano assicurare il massimo livello di sicurezza per lo svolgimento dell'assistenza degli studi dei medici di famiglia e negli ambulatori della continuità assistenziale fornendo un numero adeguato e sufficiente di dispositivi di protezione individuale. La FIMG ritiene, infatti, che i dispositivi per i collegui che effettueranno i test sierologici debbano essere aggiuntivi, così come richiamato dalla circolare ministeriale, rispetto a quelli previsti per l'attività consueta. Ma intanto sono giorni decisivi per la decisione del protocollo regionale cui le scuole dovranno attenersi per la riapertura in sicurezza. Entro il 29 agosto, infatti, è previsto il vertice conclusivo che metterà seduti davanti allo stesso tavolo i rappresentanti della Regione Puglia, della protezione civile, delle EASL, dei presidi delle scuole di ogni ordine e grado e dei medici di base. In quella circostanza verranno chiarite tutte le procedure da seguire per riaprire in sicurezza, ma anche come ci si dovrà comportare in caso di contagio tra alunni o tra i docenti. Al momento solo una babele di ipotesi che stanno mettendo in allarme soprattutto i genitori, visto l'andamento al rialzo della curva dei contagi. Dunque, quando in Puglia manca esattamente un mese, alla data del 24 settembre, giorno in cui appunto in Regione si apriranno le scuole, la situazione è tutta in divenire. Grazie.